allora ciao a tutti i miei discepoli ben ritrovati laboratorio oggi finalmente vi mostro una delle bombe anzi la bomba che è entrata stabilmente nella mia collezione strato di un accello tridente non c'è un cazzo dice ve la faccio vedere 360 gradi preparate i tovagliolini fazzoletti perché c'è da sbavare da tutte le parti anche se anche se c'è le foglie su pensate a vederla quando spoglia tutta la ramificazione che per carità è ancora un po da portare avanti però qui ragazzi c'è veramente da sbavare c'è fantastico l'ho pagata però prossimo anno secondo me non solo avremo questo avremo tanto di più che è concimando come si deve un'unica cosa che mi sta un po sui coglioni vedo della cadama sta sui coglioni per carità adesso vedremo come lasciam perdere affanculo poi magari sono io che sono pignolo perché voglio le cose perfette cioè io quando faccio bonsai ragazzi per me tutti i componenti devono essere calibrati al minimo dettaglio proprio deve essere calibrati messi lì in modo che sono sicuro 100 per cento che la pianta non può avere problemi una pianta come questa l'avrei messa nel mio substratto specifico gold esti cazzi e ci credo visto i risultati però andiamo a vedere 360 gradi pianta monumentale cioè non so che cazzo dire veramente la roba allucinante mai visto un acero tridente così c'è un piede che è 30 40 non lo so alta l'altezza perfetta per il bonsai c'è proprio qui c'è da sborrare e c'è veramente un piede perfetto cioè qui deve chiudere perché c'è stato non so cosa è successo un taglio un po grosso l'hanno chiuso col cemento tra l'altro quindi si chiuderà col callo però qui siamo di fronte a una roba che non esiste che non esiste una pianta così ragazzi cioè questo è l'acero tridente più bello che ho mai visto e meno male che me lo sono preso io così prossimo anno lo costruisco come si deve ok però devo dire che è veramente un qualcosa di fenomenale conico non c'ha il taglio sopra costruito in maniera perfetta impeccabile di solito a me piace a volte dir la mia su certe pianta no qui poteva essere fatta meglio di qua di là qui non posso dire un cazzo cioè questa appena l'ho vista l'ho presa per carità ho tirato fuori del gran grano ma così proprio appalate così però devo dire che ne valsa almeno per ora ne vale assolutamente la pena una bomba così non se ne vedono in giro neanche nelle nelle mostre top europea beh se si vedrà non lo so però nella mia collezione un acero con un piede così proporzionato in questo modo con i primari già grossi con tutti i rami profondità cassi stracassi stramega cassi c'è successo da inchinarsi c'è questo modo non posso dire un cazzo mi piace dire no però manca un ramo manca con un innesto metto deve agitare di più è una pianta perfetta c'è un cazzo da dire quindi ascoltatemi bene ok col cazzo che la vendo che questa rimane la mia collezione però ovviamente se c'è qualche matto che ha tanti 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 più tanti più tanti più due reni da lasciare tutti i denti tutte e due gli occhi il fegato i polmoni bastano il resto basta così se ne può anche parlare però penso che questa rimarrà con me qua ok perché ne vale veramente la pena cioè io non ho cero tre dente così così compatto così conico e vi dirò ma io ho visto prima di comprarlo ho visto il video ho visto la foto ho visto le foto più video tutte le non mi convinceva cioè c'era sempre qualcosa che non mi convinceva me l'ha sbattuto in faccia fatto a è questa sti cazzi via fantastico è bellissimo come come si riesce veramente a cambiare idea quando ci sono le cose davanti c'è proprio che le senti le guardi dici cazzo io sono un bonsaista e sta pianta non può rimanere qua perché io sono un bonsaista cioè inutile ci sarà da spendere ma chi se ne frega ed è quello che vi dico voi ragazzi cioè quando io ho qualche pianta da cedere smettete di star lì no però perché parte che me la prende qualcun altro e in più se siete veramente bonsai se volete fare bonsai noterete che quello che comprate oggi si sviluppa col tempo diventa sempre sempre più bello sempre più di valore e poi posso garantirvi che le piante rompono meno il cazzo delle donne ok detto questo giornatona oggi veramente sti giorni già quando è tornato il mio olmo ero felicissimo poi quando è arrivato a questo ma mamma mia altro che bomba 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 c'è nel prossimo video non ho più parole lasciato mi piace condividete sbavate quanto cazzo volete raccontate quello che volete in giro che adesso morirà che dico anche claudio bonsai non so coltivare ragazzi io sono sulla cresta dell'onda e voi siete qui a guardare i miei video questo è la verità e quindi se siete felici esultate con me perché io sono gasatissimo se siete invidiosi sono contento sempre di più c'è nel prossimo video lasciato mi piace condividete claudio bonsai.com se volete far bonsai seriamente se no via ok subito ok ciao ragazzi ciao